Ragazzi, buongiorno e buon lunedì innanzitutto a tutti quanti. Allora, innanzitutto vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere tantissimi mi piace sotto questo video perché potrebbe diventare una nuova serie. In questo video farò un super commento, lo chiamerò così, ai vari avvenimenti più rilevanti, diciamo, che sono accaduti negli ultimi giorni, in questo caso nel weekend, ma magari lo posso portare riempiendo quegli spazi ecco in cui magari non ci sono partite, quindi lo posso portare anche un venerdì, un giovedì, dipende insomma da quello che poi sarà il calendario delle varie partite, dei vari argomenti da trattare. Quindi tantissimi mi piace se volete altri episodi di questa serie e noi partiamo subito commentando appunto le varie notizie di questo weekend partendo da quella che a mio modo di vedere ha generato più clamore, quantomeno a livello mediatico, e cioè l'ufficialità, la semi-ufficialità, ma ormai si tratta di ore, può darsi che mentre sto registrando ci sia già stata, è quella di Mandzukic al Milan. E ho letto commenti contrastanti al riguardo un po' chi lo odia e un po' chi lo ama. E francamente non capisco chi lo odia. Allora, Mario Mandzukic perché? Mario Mandzukic perché ha contratto da sei mesi? Sì, innanzitutto, è un giocatore d'esperienza, è un giocatore che può ricoprire tantissimi ruoli, al di là della semplice prima punta, è un giocatore che crea spazi, può giocare tranquillamente in coppia con Ibrahimovic. Ecco, sono perplesso da chi non vuole, dai milanisti, più che altro da quella fetta di milanisti che non vuole Mario Mandzukic, bollandolo come finito, come inutile? Allora, innanzitutto, inutile assolutamente no, perché è palese che al Milan manchi una riserva pura di Ibrahimovic, quindi se lo vogliamo intendere come riserva di Ibrahimovic, Mandzukic è perfetto. Finito! Ma, opinabile. Stiamo a vedere. Non gioca ad alti livelli da un anno e mezzo, credo? Ok, ma abbiamo visto lo stesso Ibrahimovic. Ci sono determinati giocatori che vanno al di là delle qualità tecniche, della tenuta atletica, e Mario Mandzukic è un giocatore che innanzitutto fa spogliatuio. Ora domando, ai milanisti e agli juventini in particolare, ma anche al resto delle tifoserie in generale, secondo voi, alla Juventus Mandzukic servirebbe, secondo me sì, come il pane, come il pane servirebbe Mandzukic a questa Juventus? E la Juventus da quando ha iniziato a giocare un po' incalando? Da quando è andato via Mario Mandzukic? Sarà un caso. Va bene, diciamo così. Però, giocatori come Mandzukic se ne trovano veramente pochi. Quindi, attenzione. E con questo colpo il Milan dà uno scossone, perché fa sul serio. Milan squadra in silenzio, Lorenzio, che sta facendo un mercato più che dignitoso, e che è lì. E che è lì, nonostante tutte le problematiche che sta avendo, è lì. Quindi, un applauso al Milan, per quanto mi riguarda. Passiamo a un altro argomento, un altro giocatore che è stato criticato, che veramente io non trovo spiegazioni a certe cose, mi arrabbio, Caglion. Dopo la partita con Napoli, persa per 6-0, si è fatto la foto nello spogliatoio con il Napoli. Criticato, bersagliato dai tifosi del Napoli, e anche della Fiorentina, e anche da qualcuno del Napoli, che magari saranno gli stessi che gli hanno lanciato la maglia un paio d'anni fa. Ma io dico no. Caglion è un giocatore che ha giocato 7 anni, non vorrei sbagliare, 7 anni nel Napoli. È un giocatore che ha tutto di Napoli. Mi vengono in mente 5 anni di scuola, di liceo, di istituto, quello che è. Quando rivedi un tuo compagno, o qualche rivedi dopo magari un paio d'anni, è una gioia immensa, perché in 5 anni hai condiviso tutto con un compagno di scuola. È la stessa cosa, la stessa identica cosa per i compagni di squadra. E Caglion è stato un simbolo del Napoli, dell'ambiente, della squadra, della tifoseria anche, tranne veramente 2-3 individui da censurare, ma è stato un simbolo. È chiaro che si va a fare la foto. Poi, ok, possiamo discutere che non era proprio il massimo in quel momento, perché hai perso 6-0, però, ragazzi, bisogna anche capirle certe cose. Non bisogna attaccare per il gusto di attaccare. Dai, su. Lasciamo stare. Altro giocatore bersagliato dalle critiche, Arturo Vidal. Ora, io sono l'ultima persona intenzionata a difendere Arturo Vidal. riguardo a quello che è successo, quel bacio sul petto dove c'era lo stemma della Juve. Ora, qui, bisogna fare un discorso un po' diverso, perché lei... Allora, troppo clamore, secondo me. Pazzato via, poi, ovviamente, dal gol che ha fatto. Può capitare che tu sbagli. Insomma, io non voglio credere che lui l'abbia fatto apposta, anche se tutto è possibile, però non voglio credere. Quindi, può capitare che sbagli e dai il bacio in un punto in cui non volevi. Sembra che sto parlando di qualcos'altro. Troppo attaccato e diciamo che anche lui magari poteva fare un po' più di attenzione, perché, cioè, non stai giocando contro il Verona che dici, vabbè, se ho un ex compagno, se bacio allo stemma del Verona nessuno mi dice niente. Sai che in quella partita venivi guardato alla Vidal Cam, devi stare attento. Devi stare attento in primis per te, perché è chiaro che poi vieni bersagliato e poi per i tifosi, perché questo può essere interpretato male. Però, c'è stata un'esagerazione, insomma. Passiamo ancora a un altro giocatore criticato, Barella, ragazzi. Ma come si fa a criticare Barella? Io mi sono veramente stancato di leggere i commenti e su YouTube, e su Facebook, e su Instagram, e dappertutto, su Barella. Ragazzi, Barella è un giocatore spaziale. E voglio dire solo questo su Barella, perché ho già detto tanto. Basta, ragazzi. Basta parlare male di Barella, veramente. Parliamo anche di Giampaolo, dell'esonero di Giampaolo, finalmente, ragazzi. Questo devo dirlo, finalmente. Allora, a me Giampaolo non è mai piaciuto, a differenza di altri, l'ho criticato dal principio. Quando era alla Sampdoria, non dico che aveva una squadra che giocava da sola, ma... siamo lì, eh. Mi ricordo in particolare due centrocampisti, Torreira e Pratt, ragazzi. Tanta, tanta roba. E al Milan, io già lì lo criticai. Cioè, dissi il Milan? Ho fatto una scelta sbagliatissima. E anche adesso che è andato al Torino, se recuperate il mio video, tra l'altro, ci sono le prove, l'ho criticato dal principio. Campania, intanto. Mi sa che sta segnando chiesa. Campania per chiesa, anche se non sto parlando di chiesa. Ragazzi, c'è un Paolo indecente. Indecente. La cosa grave, non è neanche che hai pareggiato 0-0 con lo Spezia. Parliamo solo dello Spezia. Ma che ti hanno preso a pallonate? Il Torino non ha fatto un cazzo. E lo Spezia ha giocato in 10 dal settimo minuto. Ragazzi, dal settimo minuto. E lo Spezia è una neopromossa. E lo Spezia non aveva Anzola, non aveva Galabinov, non aveva Ricci, non aveva Bastoni. Ma di che parliamo? Finalmente, diciamo, il Torino ha preso una decisione. Nicola è il sostituto che può dire la sua. È un buon allenatore in una squadra di falegnami come quella del Torino, che non ha una qualità chissà quanto eccelsa, però ha dei giocatori molto di quantità che possono interagire bene con quello che è il gioco di Nicola. L'unica cosa che mi lascia qualche perplessità è il fatto che il Torino abbia gli esterni di un centrocampo A5. Nicola lo vedo meglio con un centrocampo gli esterni puri, insomma, di centrocampo 4-4-2, tanto per capirci, oppure con le ali pure. Per il gioco di Nicola lo vedo leggermente meglio, però lascia il tempo che trova, secondo me. Può fare bene, sicuramente non peggio di Giampaolo. Sulla Graticola nel frattempo c'è anche Gotti, non capisco, perché cosa si aspettava la dirigenza dell'Udinese da questa Udinese? Ragazzi, è una squadra organizzata, ok, con 2-3 individualità De Paul su tutte di livello alto, diciamo così, De Paul alto, altri, medio, ma poi, veramente poco. Gotti è sulla Graticola e stiamo a vedere. Chiudiamo con la, possiamo dire, anche insieme a Manzu, che c'è uno degli argomenti principali che ha tenuto banco ieri, oggi, e che terrà banco almeno fino alla Supercoppa. la Juventus. Che succede alla Juventus? Chiellini ha detto i cicli finiscono, Pirlo ha detto non siamo scesi in campo, io dico la mia. Allora, già quando è arrivato Sarri non ero proprio entusiasta, lo sapete già, io, ridatemi Max, ridatemi Max nel campionato italiano a qualsiasi squadra. Ragazzi, Allegri è un grande allenatore e si è visto nel momento in cui è andato via Allegri il progressivo declino della Juventus. E mentre a inizio stagione, non mi nascondo, dissi nel video dei pronostici della Serie A che Pirlo mi sembrava un allenatore che sapeva quello che stesse facendo, ora dico di no. Perché lo diceva a inizio stagione? Perché quando vedo un allenatore che con personalità mi mette in campo quando accadde per le prime volte Frabotta, Portanova, mi sposta a un giocatore di ruolo come Danilo che poi quella è stata un'intuizione giusta. Mi aspetto grandi cose, mi aspetto grandi cose perché vedo appunto una personalità e l'indice di personalità è l'indice di sa quello che fa e in questo caso no. In questo caso Pirlo non sa quello che fa e potrei dirne tante dall'impiego di Chiellini che ho già detto ma è stato travisato perché mi sono espresso io male su questo chiedo scusa volevo dire non che Chiellini era inadeguato ma che Chiellini non può per prestanza fisica al momento perché non è non è più ragazzino e viene da infortuni non può tappare i buchi di Frabotta e Bonucci come magari poteva fare un De Miral tutto qui non che Chiellini ha fatto cagare anzi nell'uno contro uno ragazzi Chiellini le ha dato la legna a Lukaku è il complesso è il complesso in una difesa a quattro secondo me in quel momento era più funzionale De Miral magari nell'uno contro uno ci andava a perdere però magari De Miral andava a chiudere un po' più rapidamente dove c'erano gli sbagli dei compagni questo volevo dire ma possiamo parlare di Artur in panchina l'unico vero metronomo che ha la Juventus possiamo parlare di McKennie possiamo parlare di Ronaldo a 60 metri dalla porta ma è il gioco in generale la Juventus non è mai convinto in questa stagione tranne la partita del Camp Nou secondo me è veramente troppo poco troppo poco per una squadra che parte per vincere lo Scudetto ma che secondo me a questo punto non lo vincerà anche se le distanze sono meno nette di quelle che sembrano perché poi la Juventus è una partita in meno l'abbiamo già detto ma è la prestazione che fa la differenza e se per esempio dell'Inter l'Inter anche non è che mi ha convinto chissà quanto a livello di prestazioni ieri sì assolutamente però in generale all'inizio stagione per l'Inter possiamo dire innanzitutto che nei 25 ha una rosa più forte della Juventus secondo me non negli 11 ma nei 25 sì e che non ha le coppie che non ha le coppie e non è poco non è poco perché se tutto va male la Juventus giocherà 4 partite di Champions perché credo che col porto si passi quindi se tutto va male ne giocherà 4 alla spalla in Coppa Italia quindi voglio dire sicuramente passerà adesso alla Supercoppa quindi Gianni gioca una in più ha il recupero con Napoli l'Inter per esempio in Coppa Italia avrà il Milan potrebbe anche uscire per dire quindi potrebbe ritrovarsi con solo il campionato quindi in una stagione del genere con un calendario così infitto non sottovalutate il fatto che l'Inter abbia solo il campionato e soprattutto che Conte è un allenatore che solo con una competizione per quanto sia un allenatore antipatico arrogante fissato lo sapete è un allenatore che su una competizione può fare veramente bene al di là di quelli che sono i suoi limiti quindi in questo momento vedo la Juventus molto indietro al Milan e all'Inter al di là per esempio stasera non è che ho una grande fiducia nel Milan perché sono veramente troppe le assenze però ragazzi il Milan è una squadra di sostanza di mentalità mai che ho sentito lamentarsi qualcuno per le assenze che ce le ha il Milan ce le ha e ne ha sempre di più e non ho mai sentito qualcuno fare il piangina e questo è indice di mentalità è l'indice della mentalità che ti porta a vincere o a lottare perché poi ci sono tanti fattori che magari portano una squadra a vincere piuttosto che un'altra ma ti porta ad essere lì una mentalità che in questo momento per esempio la Juventus manca quindi per me indietro la Juventus nettamente a Milan e Inter e per il resto stiamo a vedere uno spartiacque sarà anche la partita di recupero con Napoli che non si sa quando si giocherà ovviamente vedremo cosa succederà in Supercop allora questo era il Supercommento ragazzi iscrivetevi al canale fatemi sapere se vi è piaciuta fatemi sapere una vostra su questi vari argomenti Gianpaolo Caglion Mandzukic la Juve l'Inter Barella e Vidal noi ci vediamo sicuramente per il videosfogo arriverà l'ho già detto arriverà stiamo a vedere cosa succede stasera ma c'è quella puzza quando il vicino sta cucinando qualcosa e tu lo senti lo senti che c'è puzza di barbe che ti affacci ma stanno arrostendo qualcosa lo sfogo è sulla brace ci vediamo sicuramente con questo con il videosfogo e poi con altri contenuti che già sapete che arriveranno ciao ragazzi